Arancine di pollo senza glutine, una ricetta sfiziosa e molto semplice da realizzare. In pratica sono dei cordon blema dalla forma sferica molto carina. Ma vediamo come fare. Intanto ho appiattito le fettine di pollo, un petto di pollo, l'ho appiattito tra due fogli di pellicola trasparente così non si rompe. Fatto questo li ho messi da parte e ho preparato il ripieno che a base di prosciutto cotto, potete usare anche il prosciutto affumicato o il prosciutto alla braccia che è veramente buonissimo e ho passato del formaggio, in questo caso provola piccante, sui fori più larghi di una grattugia. Fatto questo ho appoggiato su ogni fettina di carne un poco di prosciutto, ho messo il formaggio rapè e sopra ho messo un pezzettino di emmental. Ho arrotolato tutto e ho avvolto attorno al prosciutto anche la carne. Siccome non è facilissimo bloccarla in questa fase, ho utilizzato degli stuzzicatenti per tenerla ferma. Ho fatto la stessa cosa per tutte le fettine di pollo che avevo. Potete anche prepararne di più e conservarla in frigo fino all'indomani. Una volta fatto questo, ve lo faccio vedere più da vicino così si capisce bene qual è il movimento che faccio, per bloccarle una volta fatto questo ho preparato tre piattini. In uno ho messo la farina di riso finissima, nel mio caso è certificata gluten free, se non siete celiaci potete usarlo a qualunque farina abbiata a disposizione. Nel secondo piatto un paio di uova, perché come vedrete in pano due volte, quindi di uovo ne serve parecchio. Nel terzo piatto ho versato del pangrattato, nel mio caso senza glutine, se non siete celiaci usate un pangrattato normalissimo. Ho passato le palline, le arancine di pollo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pangrattato, compattandole bene in maniera tale che la carne si sigilasse attorno alla farcia. Prima del secondo passaggio in farina, uova e pangrattato, ho tolto gli stuzzicadenti, così sono riuscite a schiacciare bene bene tra i palmi delle mani queste pallotte, queste arancine. Come contorno di queste arancine ho preparato le patate schiacciate, ho preso delle patate piuttosto piccoline, le ho lavate benissimo in maniera tale da non doverle sbucciare, le ho fatte cuocere in acqua fino a quando infilzando una forchetta, questa non opponeva resistenza, e poi le ho schiacciate come vedete con il batticarne, sistemandole man mano su una teglietta. Io ho utilizzato una teglia, ho usato la frigitirica ad aria per cuocerle, quindi le teglie sono piccoline, non le ho potute mettere tutte le patate schiacciate insieme. Poi le ho pennellate con un misto di olio, sale, pepe, prezzemolo tritato, coperte di questo formaggio rapè, lo stesso usato per la carne, e le ho infornate a 180 gradi in modalità ventilata per circa 8-10 minuti, fino a quando non diventano così. Sono buonissime, anche da sole. Poi ho scaldato dell'olio profondo in una casseruola, e ho cotto le arancine, non a fiamma troppo alta, ho prolungato la cottura di qualche minuto, circa 5-6 minuti a arancina, forse anche di più, perché la carne deve cuocere bene uniformemente, perché essendo avvolta a pallina, giustamente ci sono parti in cui la carne è doppia, quindi attenzione perché la carne del pollo va cotta bene. Insomma, come state vedendo, la ricetta è veramente facilissima, la forma è molto più sfiziosa, è più carina anche da presentare a tavola, le patate sono divine, quindi ve le consiglio davvero, vi consiglio entrambe le preparazioni, dico la verità. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se vi è piaciuta lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche. Grazie e alla prossima ricetta gluten free. Ciao! Grazie a tutti!